Io da anni lavoro su questo territorio, ho acquisito premi e riconoscimenti per la tutela ambientale, per progetti in questa direzione. Penso che in Ostuni si sono fatti il numero minore di fotovoltaici di tutta la Puglia, non c'è un eolico. E quindi ho difeso il territorio realmente, mentre forse altri perdono tempo. E allora il lavoro che abbiamo fatto proprio per adeguare la nostra strumentazione urbanistica generale al PUT, che era la norma in vigore poi fino a due mesi fa, non voglio che sia gettato alle ortiche. Ora vedo che c'è una disponibilità a fare un percorso del genere, anche se io non voglio fare il tecnico o il giurista, pur avendo i requisiti e le competenze per farlo. Però mi esprimo dal punto di vista politico, c'è bisogno che attraverso opportuna normativa si tuteli il lavoro che i comuni come Ostuni hanno fatto e che va recepito eventualmente solo verificata la compatibilità e conformità alla strumentazione regionale. E non il contrario, proprio per un discorso di decentramento, di coinvolgimento e di copianificazione. La nostra andrà verificata se è compatibile, non dobbiamo sempre noi adeguarci a quello che gli altri decidono e ci impongono. Io so bene che c'è una zona 167 approvata ad Ostuni, ma noi non avevamo tutta la strumentazione urbanistica regionale da confrontare. Avremmo commesso degli errori, magari avremmo inserito la 167 di Ostuni e non una lottizzazione privata che, tra l'altro, è di competenza comunale, quindi di cui noi non avremmo mai potuto sapere alcunché. Se lì c'è la 167 di Ostuni, maggior ragione che si tratta di una 167, il piano non pone alcun problema perché siamo già andati in deroga nel 2006, se non ricordo male, era il 2006 e andiamo in deroga oggi anche perché le norme sono assolutamente sovrapponibili. Noi proprio ieri in giunta regionale abbiamo approvato una deroga per una bretella stradale, che è un'opera pubblica, così come è un'opera di pubblica utilità, realizzare una 167, siamo andati in deroga sia al PUT sia al nuovo piano paesaggistico. Quindi su questo, come dire, guardare i singoli casi spesso aiuta e la regione in questa fase è assolutamente disponibile a dare tutte le spiegazioni.